Un convegno per parlare di welfare aziendale, per indicare un percorso nuovo che la Cisla di Belluno Treviso ha posto in essere per promuovere interventi in grado di incidere anche al di fuori delle aziende stesse. Noi vogliamo innalzare la qualità del welfare aziendale che da tanto tempo come Cisla stiamo facendo nel nostro territorio. Quando intendo qualità intendo che noi non solo vogliamo creare occasioni e opportunità per aziende e lavoratori, ma vogliamo anche investire dal punto di vista sociale nel territorio. Noi abbiamo una visione molto chiara di quello che bisogna fare nel nostro territorio, l'accordo che abbiamo fatto una settimana fa sul welfare territoriale va in quella direzione. Il welfare aziendale è un altro tassello che si completa in un ragionamento che come dicevo poc'anzi è anche di investimento sociale, cioè fornire servizi che non siano solo benefit ma che siano servizi per la persona, per la famiglia e quindi in un ragionamento anche di spopolamento un tentativo di arginare anche con queste azioni sindacali e di rete quelle cose che possiamo fare di cui noi abbiamo anche una cultura molto precisa. Un nuovo welfare aziendale con interazioni e ricadute anche sul tessuto economico territoriale. Noi abbiamo coinvolto Tre Cuori che è un'esperienza nuovissima del Veneto, in particolare di Conegliano, ma che ha radici anche nel belunese e cambiare quindi il paradigma di fornire questi servizi di welfare. Invece che fare accordi con player nazionali che poi alla fine fanno convenzioni con Amazon o grandi catene, noi vogliamo fare invece il welfare con le nostre piccole aziende del territorio, quindi dalla cartoleria alla palestra ma anche servizi come dicevamo prima alla famiglia che siano del territorio, cioè fare welfare con le aziende del territorio per il territorio, in modo che le risorse generate dal welfare che poi arrivano dalle aziende rimangano nel nostro territorio. Una fotografia del momento economico provinciale. Noi veniamo da due anni in cui l'export ha tenuto tantissimo e quindi le nostre aziende manifatturiere e l'indotto sono riuscite a reggere questi ultimi anni di crisi, tant'è che al di là di situazioni di precarietà dei lavoratori e di bassi salari abbiamo una buona occupazione. Ora ci preoccupano i segnali che ci sono a livello internazionale e i consumi italiani che sono ancora assolutamente fermi. Ciò nonostante abbiamo delle aziende che stanno tenendo duro e che hanno comunque delle prospettive abbastanza sufficienti. Certo si naviga un po' a vista e quindi molto dipenderà dalle condizioni internazionali e dai mercati.